ciao ragazzi nuovo video della tutto tech oggi andiamo a vedere un'altra andiamo a vedere un'altra caratteristica della file stick che è abbastanza utile secondo noi come collegare il cellulare allo schermo del nostro televisore tramite la file stick quindi potete riprodurre tutto quello che vedete sul cellulare e sul tablet direttamente sullo schermo del televisore tramite la file stick adesso andremo a vedere qualche passaggio questa e specifichiamo è per i cellulari android questa procedura prima di tutto accendiamo la nostra file stick andiamo nell'app store ricerca vi basterà scrivere air e l'app da scaricare questa air screen airplay google cast miracast dlna già scaricata procedete ad aprirla automaticamente l'app andrà a rilevare la rete che state utilizzando nell'angolo in basso a destra e da qui possiamo già andare a fare l'accoppiamento col telefono quindi spostiamoci sul telefono e vediamo cosa fare apriamo l'app google home e nella schermata principale direttamente vi dovrà comparire ASAFTT che è la sigla dell'app che abbiamo scaricato sulla fire stick se non dovesse comparirvi provate a fare uno scroll verso il basso o comunque attendere all'incirca un minuto più o meno appena la trova continuiamo eccoci qui dopo neanche un minuto di attesa è uscito ASAFTT cast come vi dicevo basterà cliccare in basso a destra trasmetti schermo trasmetti schermo nuovamente e automaticamente quello che avete sul cellulare verrà riprodotto anche sul televisore per esempio la nostra pagina che vi invitiamo a visionare per bene tutti i video che sono usciti guardate quanti ne abbiamo fatti siamo veramente a tantissimi video la reattività non è male sto scorrendo anche molto velocemente ha un leggerissimo rallentamento ma che recupera immediatamente tutto qui per poter poi cessare la trasmissione dati basterà in questo caso io scrollo dall'alto verso il basso il telefono mi esce il pop up del cast e basterà cliccare su disconnetti bene ragazzi come avete visto pochi semplici passaggi e trasferirete tutte le informazioni del vostro cellulare o meglio quelle dello schermo audio video tutto quello che volete direttamente sul televisore tramite la file stick marco vi ha dimostrato come possibile fare questa operazione fateci sapere qui sotto cosa ne pensate anche perché comunque è una funzione che secondo noi potrebbe essere utile ma è carino quando torni dalle vacanze vuoi far vedere le foto che hai sul cellulare anziché farle vedere in piccolino le puoi direttamente proiettare direttamente sul televisore per esempio oppure vuoi usare il telefono per aprirti la tua app di netflix o di prime video e trasmetti semplicemente il televisore quindi anche perché vi ricordiamo che se andate in vacanza la file stick vi può seguire se avete una fonte modem lo potete connettere a quel modem collegate anche il cellulare e quindi anche questa funzione vi seguirà in vacanza io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao ciao